In realtà lo schema delle crisi giovanili è sempre identico, si ricostruisce a ogni generazione. I ragazzi e i giovani sono in generale degli esseri adorabili, pieni di quella sostanza vergine dell'uomo che è la speranza, la buona volontà, mentre gli adulti sono in generale degli imbecilli, resi vili e ipocriti, alienati dalle istituzioni sociali in cui crescendo sono venuti a poco a poco incastrandosi. Mi esprimo un po' coloritamente, lo so, ma purtroppo il giudizio che si può dare di una società come la nostra è più o meno coloritamente questo. Voi giovani avete un unico dovere, quello di razionalizzare il senso di imbecillità che vi danno i grandi, con le loro solenne ipocrisie, le loro decrepite e faziose istituzioni. Purtroppo invece l'enorme maggioranza di voi finisce col capitolare, appena l'ingranaggio delle necessità economiche, l'incastra, lo fa suo, l'aliena. A tutto ciò si sfugge solo attraverso una esercitazione puntigliosa e implacabile dell'intelligenza e dello spirito critico, altro non saprei consigliare ai giovani e sarebbe una ben noiosa litania alla mia.